Adesso ho un brano che... Guarda il mio passettore, è serva dei padroni! Guarda il mio passettore, è serva dei padroni! Guarda il mio passettore, è serva dei padroni! Dicevo, è un brano che sentirete in una versione un po' particolare una versione d'atmosfera, una versione acustica questo è un brano che in realtà bene rende se eseguito da un'orchestra di musica classico leggera un'orchestra sinfonica quindi è una versione molto particolare quindi ascolteremo adesso Mi Focalizzo eseguita da Marco Lenzi che è un oppositore, chitarrista e cantante accompagnato da Franco Ruppi che avete già avuto un'ora di ascoltare Buongiorno signore Mi Focalizzo Sì! No! Però! Io odio interrogare perché questo convito è in andato per me e mi tocca ascoltare e mi tocca ascoltare le cazzate sparate da un ragazzo innocente che non sape proprio niente odia interrogare perché questa cosa non è giusta per me e mi tocca avvalutare, giudicare e misurare conoscenze e competenze e poi dare le sentenze e financo benitense mentre io vorrei parlare delle cose del mondo delle strade del mondo, delle piazze del mondo, del ramo del mondo e scambiare sensazioni, previsioni, emozioni e sentire un adolescente che non sape proprio niente sciorinare le sue storie, le sue pene, le sue glorie e capire in un istante che può essere importante e due esseri viventi, non discenti né docenti che scambisca da un contatto che prescinda da quel fatto che mi vede interrogare, giudicare e valutare ciò che io odio di me odio di me odio di me odio di me grazie